Buongiorno amici, buona domenica. Oggi trasmetto dalla città napolista, Napoli. Oggi sono a Napoli perché oggi pomeriggio sono ospite per Napoli-Bologna, per Bologna-Juventus in un club di Napoli. Ieri ci sono state tre partite, in Serie A c'è stata la sconfitta dell'Inter a Udine, già commentata nel video precedente, con l'Udinese in casa veramente 3-1 e con le reti di Lasagna e il pareggio di Cardi, e poi l'Udinese in presa con De Paul su calcio di rigore e il 3-1 finale di Barak. Che non è Obama. Il Napoli torna primo in classifica, ieri pomeriggio ha fatto una bellissima partita, e un complimento va in particolare al capitano, a Marek Kamsik, che per i suoi 115 gol raggiunge un certo Diego Armando Maradona, diventando il miglior marcatore nella storia del Napoli e quindi punto insieme a Maradona, ma credo che verrà superato. Complimenti davvero, soprattutto come uomo, perché è stato l'unico ad avere, o uno dei pochi, ad avere le palle a cacciare un certo minoraiola e quindi a rimanere a vita nel Napoli, visto che sono 10-11 anni, se non sbaglio, che sta nel Napoli. Quindi complimenti anche a lui, si è dimostrato un giocatore con gli attributi, che non pensa sui soldi, che un giocatore come Amsic avrebbe fatto fortuna anche a livello monetario, visto che secondo me andrebbe anche bene giocare in squadre più blasonate del Napoli, come Real Madrid, Barcellona, eccetera. In serata la Roma ha vinto 1-0 al 95esimo, l'ultimo respiro, contro il Cagliari, un buon Cagliari messo in campo da Diego Lopez, è stata una bella partita difensiva del Cagliari, naturalmente il Cagliari non è che poteva fare la sua attaccare, sennò prendeva 5-6 gol. Ho sentito molte polemiche sul fallo di mani di Fazio, il VAR, non VAR, là sono in situazioni un po' particolari, io l'ho dovuto rivedere 4-5 volte per vedere questo tocco di mano, è vero che ci sta il VAR, il fallo poteva essere fischiato come non poteva essere fischiato, l'arbitro è deciso così, bisogna sempre accettare né bene né male le decisioni del direttore di gara, quindi ovviamente alla Roma, Cagliari ha fatto l'unico errore difensivo, è stato quello, Roma poi ha sbagliato anche un rigore con Perotti, sullo 0-0, quindi comunque nel complesso la vittoria della Roma è stata meritata, anche se è arrivato in maniera un po' così così, un po' dubbia, e quindi bisogna accettare per detto il campo, la Roma raggiunge momentaneamente la Juventus, è al terzo posto, a parità di partite, perché la Roma ha una gara in meno con la Sampdoria, penso che deve giocare oggi col Bologna, e oggi la partita delle 15 è appunto Juventus-Bologna, è la partita di cartello, e quindi speriamo bene, naturalmente per i colori bianco-neri, alle 12.30 c'è Verona-Milan, e poi le altre gare sono Crotone-Chievo, Fiorentina-Genua, San Floria-Sassuolo, alle 18 un bel match a salvezza, che è Benevento-Spal, e qui i Sanniti si vedrà se riusciranno a vincere, a trovare la loro prima vittoria in campionato, in Serie A nella loro storia, e a mettersi un po' sui binari giusti per la salvezza, in caso di sconfitto o di pareggio o di sconfitto addirittura, credo che già così, secondo me, al 99,5%, dai, il retrocesso e il Benevento, infatti molti miei amici dicono, eh ma qua secondo te ci arriva a 10-15 punti, questo non lo so, però, si sta giocando abbastanza bene con De Zeppi, adesso è il Benevento, ma la colpa comunque non è di, secondo me è degli allenatori, i giocatori quelli sono, sono due o tre elementi che hanno esperienze in Serie A, il resto vengono tutti dalla cadetteria, quindi, mi dispiace per il Benevento, perché comunque sono campano, e quindi una squadra campana, mi dispiace, e poi c'è in chiusura un bellissimo Atalanta-Lazio, secondo me, con due bei allenatori, che sono Gasperini e Simone Inzaghi, e vediamo cosa succederà, domani poi ci saranno i vari, il mio video, per vedere come è andata la giornata di, di Serie A, questa è la diciassettesima, poi alla vigilia di Natale, c'è un importantissimo Juventus-Roma, e quindi si chiuderà l'anno con i botti, poi con l'ultima giornata, con Inter-Lazio, e quindi la cosa che mi conforta, che l'ultima giornata, poi ci sarà un Lazio-Inter, in memoria dei miei amici interisti, un certo 5 maggio 2002, però, vabbè, vediamo un po' come succederà, e vorrei fare complimenti dopo tante critiche al Napoli, ad Amsic, visto che un mio amico ha detto, ora commenta Torino-Napoli, voglio commentare Torino-Napoli, la partita sinceramente non l'ho vista, che l'ho vista gli ultimi 20 minuti, così perché ero fuori, anche io c'ho la famiglia, poi viene a Napoli, che fai, sta a casa, e quindi, sinceramente, il primo tempo non l'ho visto, mi hanno detto, per quello ho sentito dire, ho visto gli Alites, vabbè, questi sì, che Napoli praticamente ha stradominato, a parte il gol, sì, infatti un aneddoto, io appena ho girato la televisione, ero con un mio amico tifoso in Napoli, ho fatto, no, guarda, non la voglio vedere, ha fatto questo, no, vediamo, vediamo un attimo, in girata la televisione, a scena del Torino, ho detto, viste, poi diceva, so io, io non la volevo vedere, infatti, infatti, subito, lui subito ha girato, ha detto, vabbè, lascio stare, comunque, no, a parte gli scherzi, ho visto il gol di Belotti, che è stata una mezza papera, del solito Reina, portiera a quale a me non piace, però su a punti di vista, per il resto, a breve uscirà anche uno speciale, sul campionato estero, vi anticipo soltanto, di un super Manchester City, che ieri ha travolto il Tottenham, per sede della Juventus, 4-1, all'Etihad Stadium, che è sbagliando anche un rigore, dunque, se non sbaglio, la sedicesima vittoria consecutiva, per il Manchester City, un record assoluto in Premier League, battuto anche quello dell'Arsenal, di 15 vittorie consecutive, l'Arsenal di Wenger, l'ultimo Arsenal che poi ha vinto la Premier League, nella stagione 2003-2004, quindi a breve uscirà anche, credo martedì, perché le ultime partite sono lunedì, dei campionati esteri, e quindi uscirà anche uno speciale, il campionato estero, e poi ci sarà lo speciale Serie B, come ogni appuntamento settimanale, visto che ho riscosso molti commenti positivi, e per far contento anche al mio amico Lele, tifoso della Salernità, e visto sprocati Lele, grande Mattia, e quindi, nella sua speranza caro Lele, che si sblocchi anche Rodriguez, e che bocca gol, faccio qualche gol in più, comunque per il momento è tutto, lasciate i commenti, lasciate mi piace, iscrivetevi al mio canale, e qui parleremo solo di calcio, lasciamo stare la tuta, perché io la Juve la amo, ma mi piace il calcio in generale, ok? Ragazzi, buona domenica, e sempre Forza Juve, e un abbraccio anche ai carissimi tifosi napoletani, che sono primi in classifica, e ai carissimi interisti, che ieri, non strammatezzate ragazzi, tranquilli, sta soltanto una sconfitta, la prima stagionata ci sta, solo la Juve di Conte, poteva finire camminata in battuta, comunque, l'Inter comunque resterà tra i primi tre, tranquilli, un bacione a tutti, e buona domenica.